Con 30 funzioni, tagliare a pezzi, sminuzzare, centrifugare, tritare, soffriggere, macinare, polverizzare, grattugiare, riscaldare, frullare, funzione yogurt, montare, emulsionare, mescolare, cucinare, girare, cucinare al vapore, sobollire, confit, impastare, cucinare a bassa temperatura, bollire, mantenere caldo, fermentare, slow mambo, cucinare con precisione grado per grado, cucinare a bagnomaria, cottura lenta, velocità zero e dispone di funzione turbo, bilancia di grande precisione incorporata che pesa gli alimenti depositati nella caraffa. Potrai cucinare con precisione per risultati eccellenti. La sua caraffa è in acciaio inossidabile di alta qualità resistente all'acqua. Una volta terminate le ricette, dovrai solo preoccuparti di gustarle con la tua famiglia e amici. La caraffa è lavabile in lavastoviglie e sarà come nuova per il seguente uso. Una delle funzioni del mambo 8590 è la velocità zero. Con questa modalità potrai cucinare e soffriggere senza bisogno della velocità, come con una pentola o padella. Inoltre, grazie all'apposita finestrella potrai cucinare senza coperchio. Il sistema è intelligente di potenza di cottura che oscilla da zero a dieci livelli. Grazie a questo sistema si raggiungono risultati ottimi, simulando fuochi tradizionali con fiamme basse. Medie o alte. Evita il surriscaldamento e impedisce che gli alimenti si attacchino o brucino. Ideato per il motore superpotente che sfrutta il massimo rendimento sia in alte che in basse velocità. Mambo Mix è capace sia di mescolare lentamente i tuoi stufati, risotti, creme, pasta, che di impastare senza tagliare, ottenendo impasti perfetti e più omogenei. La sua caraffa in acciaio inossidabile di alta qualità è dotata di una capacità massima fino a 3,3 litri di modo che non si debbano ripetere i piatti quando ci sono ospiti a casa. Grazie al cestello per bollire incluso, sono quattro le preparazioni simultanee che puoi realizzare. Cucinare nella caraffa, nel cestello e cuocere a vapore nella vaporiera a due livelli. Risparmierai tempo, sforzo e potrai assaporare piatti appena fatti. Sicurezza avanzato per inserire e rimuovere le lame facilmente senza rischi. Include un ricettario completo e accesso alla social community interattiva e a tutte le nuove ricette della settimana. Di Cecotec, non perdere di vista la social community interattiva. È la fonte di condivisione per gli amanti della cucina per scoprire infinite ricette. Se vuoi acquistare questo robo da cucina Cecotec Mambo 8.590. Non ti resta che seguire il link che ti lasciamo nella descrizione e nel primo commento. Numero 2. Robot da cucina 3 in 1 Ninja BN 800 EU. Prepara di tutto, dagli impasti ai dessert, dalle salse alle bevande con questo apparecchio 3 in 1. Robot da cucina, frullatore moltiporzione e frullatore da tavolo. Non puoi sbagliare. I cinque programmi intelligenti sono regolati per offrirti i risultati che desideri con la semplice pressione di un pulsante. Le sequenze preimpostate di impulsi, miscelazione continua e pause fanno tutto da sole, ma puoi anche utilizzare le impostazioni manuali. Azionate da un potente motore da 1200 W. Le lame di precisione Ninja sono fatte per durare a lungo, perché realizzate in acciaio inox di alta qualità e testate con mille cicli di triturazione del ghiaccio. Frulla senza problemi frutta e verdura fresca, frutta a guscio, semi e persino il ghiaccio. Programmi che fanno tutto da soli con il semplice tocco di un pulsante. Facile da utilizzare, comandi semplici, impostazioni manuali e parti lavabili lavastoviglie. Se vuoi conoscere il prezzo di questo robo da cucina, accedi al link che ti lasciamo nella descrizione e nel primo commento. Numero 3. Robot da cucina multifunzione Moulinex HF 4, 5, 6, 8K. Con il robot da cucina Moulinex ClickChef, compatto ma capiente. Puoi preparare deliziose ricette fatte in casa risparmiando tempo ed energia in cucina. Interfaccia intuitiva con 5 programmi automatici, zuppe, impasti, cottura lenta, salse, cottura a vapore. Velocità regolabile a 12 livelli con funzioni a impulsi e impostazioni manuali per un totale di 32 funzioni. Cuocere, mescolare, frullare, impastare, sbattere, tritare il ghiaccio, tritare, macinare, caramellare. Mantenere in caldo, controllo temperatura, lessare, gelato, fondere, emulsionare, bollire. Composte di frutta e verdura, riscaldare, stufare, servire direttamente nel piatto, scuotere, tagliare. Rosolare, fare il burro, montare, pesare, zuppe, funzione a impulsi, cottura lenta, al vapore, salse. Fermentazione del pane. Prendi ispirazione quotidiana per piatti sempre creativi e gustosi dal ricettario incluso. Con ben 200 ricette per soddisfare tutti i gusti. Goditi risultati veloci e senza sforzi grazie al set di accessori inclusi. Lama trita tutto, frusta, sbattitore, cestello per la cottura al vapore interno-esterno, spatola, tappo dosatore e alla bilancia integrata di precisione. Il robot da cucina ClickChef di Moulinex è dotato di un coperchio di sicurezza per prevenire schizzi e scottature. Non è possibile aprirlo mentre il robot è in azione. Numero 4. Robot da cucina compatto 1250 W Bosch. Il robot da cucina compatto con più di 50 funzioni, un potente motore da 1250 W e una varietà di accessori per impastare e tagliare. Montare in modo rapido. Regolazione continua della velocità con indicazione LED e funzione Pulse per lavorare a intervalli regolari e avere risultati ottimali anche per ghiaccio tritato. Lama Supercut per tagli precisi. Gli accessori possono essere riposti facilmente dentro la ciotola XXL da 3,9L, risparmiando spazio anche nella cucina più piccola e consentendoti di tenerli sempre a portata di mano. Velocità variabile con impostazione Pulse e Moment. Indicatore di funzionamento con luce LED. Lama multifunzione WaveCut per tagli precisi e perfetti. Sicurezza. Blocco coperchio ciotola e frullatore durante l'uso. Piedini in gomma per una maggiore stabilità durante l'uso. Numero 5. Robot da cucina multifunzione 800 W. Ingredienti tagliati alla perfezione. Frullati cremosi e risultati sempre perfetti grazie alla lama multilevel 6 con tre doppie lame. Pratico. Tutti gli accessori possono essere riposti all'interno della ciotola e gli appositi segni ne semplificano il montaggio. Grazie alla speciale lama, macinare spezie e caffè sarà semplicissimo. Accessori lavabili in lavastoviglie, semplici da pulire. Motore da 800 W con due velocità e funzione Moment. Lama multifunzione in acciaio inox. Adatto per tritare il ghiaccio. Meccanismi di sicurezza per ciotola e coperchio. Piedini in gomma per una maggiore stabilità durante l'uso. Tutte le plastiche a contatto con il cibo sono prive di bisphenolo. Grazie per aver guardato il video. Ricorda che se ti è piaciuto ti chiediamo di metterlo mi piace. Condividerlo con i tuoi amici o familiari in modo che più persone possano vedere i diversi prodotti che carichiamo ogni giorno. E ovviamente non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella in modo che YouTube ti avvisi quando carichiamo. Un nuovo video. Fino alla prossima volta.